... Protestano i laboratori dello stabilimento biellese della Fiat Powertrain di Verrone, il motivo è il non rispetto degli accordi presi con il territorio. Vercelli indice una gara per affidare il trasporto pubblico della provincia, una decisione che potrebbe far chiudere Atap e non garantire il trasporto pubblico nella provincia di Biella. Festa della Repubblica sobria, ma occasione per i sindaci di far sentire la propria voce nel chiedere allo Stato le risposte che i territori aspettano. Le cure palliative e domiciliari dell'Asla di Biella sono un'eccellenza nel panorama sanitario nazionale in merito dell'integrazione tra pubblico e onlus del territorio. Niente da fare per il Biella Rugby che perde contro il Prato Sesto, la replica della partita ripresa dalle nostre telecamere in onda questa sera alle 21. Buongiorno dalla redazione di Biella. Subito in primo piano i trasporti che on una notizia giunta da poco in redazione. Tutto come da copione, Vercelli ha formalizzato la richiesta di eroga per mettere a gara il servizio di trasporto pubblico nella sua area di competenza e così Biella rischia di rimanere con il cerino in mano. La conferma arriva dal consigliere regionale del Partito Democratico, Vilmer Ronzani, che chiede la collaborazione del commissario della provincia, del sindaco di Biella e del presidente del consorzio dei comuni. Se non si arrivasse a negare l'autorizzazione, l'azienda di trasporto pubblico di Biella subirebbe un colpo mortale. Le conseguenze sull'occupazione e la mobilità delle persone e dello stesso futuro dell'azienda pubblica di trasporto sarebbero drammatiche. Mi auguro che l'assessore regionale dei trasporti, Barbara Bonino, non conceda la deroga necessaria perché l'eventuale decisione di mettere a gara al servizio della provincia di Vercelli configura una diversa suddivisione del bacino che la delibera in questione identifica con i territori di Biella, Vercelli, Novare e VCO. Ossia il quadrante scrive ancora Ronzani. Altri lavoratori che protestano sono quelli della Fiat Powertrain di Verrone che oggi si riuniscono in presidio per protestare contro il mancato rispetto degli accordi presi dalla Fiat. Vediamo il servizio. La Fiat conferma i propri impegni in Italia, l'intenzione di non chiudere alcun stabilimento italiano, il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, nonostante la fase di forte difficoltà che il mercato dell'auto sta attraversando a livello nazionale ed europeo. Ma per quanto riguarda lo stabilimento del biellese c'è molta attenzione. Nel 2008 Marchionne prometteva un investimento di 500 milioni a Verrone, l'assunzione di 600 addetti e una produzione di 800 mila cambi all'anno. Di fronte a questo impegno venne anche firmato un protocollo tra Fiat Powertrain, la regione Piemonte, la provincia di Biella e il comune in cui venivano offerte agevolazioni per 16 milioni. Oggi gli operai sono un centinaio in più, ma soltanto una trentina sono di Biella. Gli altri sono persone trasferite da Crescentino e da Torino. Così lunedì è stato convocato un direttivo alla Camera del Lavoro di Biella alle 9 per discutere la situazione, mentre alle 13 CGL si sposterà davanti all'ingresso dello stabilimento Fiat di Verrone per un volantinaggio. Chiederemo un incontro in regione, sottolinea Adam Bodi di FIOM CGL, perché dovremmo avere risposte precise da Fiat. investimenti non ce ne sono stati e ci chiediamo se esiste un piano industriale per lo stabilimento di Verrone. Cambiamo argomento, celebrazione della festa della Repubblica a Biella, diversa rispetto agli anni scorsi, più sobria, ma con polemiche dei sindaci e con un intervento deciso del primo cittadino di Biella, Dino Gentile, che chiede allo Stato di dare risposte precise ai territori. Vediamo il servizio. Era il giugno del 1948, quando per la prima volta in Bie dei Fori Imperiali a Roma si diede vita alla parata militare in onore della Repubblica. Dall'ora e negli anni a seguire, la manifestazione acquistò sempre più visibilità ed anche toni trionfalistici, fino ai giorni nostri, che su indicazione del Vice Presidente del Consiglio è stato un 2 giugno diverso, come impone la Spending Review. Una festa intanto anche nel Bielese anticipata è caratterizzata da qualche polemica. Alcuni sindaci della Valle Elvo avevano infatti annunciato la loro assenza in segno di protesta per i ritardi nei lavori di ripristino della tangenziale di Graglia. Secondo gli amministratori locali, la Prefettura si sarebbe disinteressata della questione, ignorando i problemi del territorio. Il 2 giugno comunque ha avuto la deposizione della corona dall'oro in Piazza Battistero e poi la cerimonia si è spostata in Piazza Martiri, dove si sono registrati i vari interventi delle istituzioni. Ed è stato il sindaco di Biella Dino Gentile a sottolineare lo stato di difficoltà che si trovano a vivere i comuni. Da troppi anni la crisi dello Stato viene pesantemente scaricata sulle istituzioni periferiche, ha detto, ovvero sui comuni e sulle province, chiamate a ripianare debiti e costi della pesante macchina pubblica. Il taglio continuo di trasferimenti di risorse alle regioni e agli enti locali ha profondamente mutilato il corpo delle istituzioni del territorio. Ed è stato sempre il sindaco Dino Gentile a rivolgere delle domande precise al governo attraverso il prefetto. Il popolo, addetto della Repubblica, comincia a dare segni di stanchezza e non lo dico soltanto per spirito di populismo. Devo dire che si metterà al pezzo se la politica e le parti sociali non cambiano le regole del gioco. Devo dire che se non si dà un minimo di esempio, partendo da se stessi, la politica non è più credibile agli occhi dei cittadini. Devo dire che le difese delle lobby corporative in questo Paese mineranno il futuro dei nostri figli. Devo dire che è indispensabile il ritorno allo spirito di servizio, all'etica e all'impegno politico, allo della cosa pubblica. Lo chiedo ai magistrati, lo chiedo a lei, la Repubblica della sua carriera, affinché lo trasmetta nella capitale, a nome di un sindaco, a nome di sindaci che governano onestamente terre e comunità alla periferia dell'impero. Ed ora una notizia di cronaca, furto di rame nella notte a Crevacuore a Masserano. I crabinieri sono riusciti ad identificare i responsabili, ma ancora in queste ore si sta cercando di avere notizie maggiori. Intanto sarebbero sette i quintali di oro rosso rubato che corrispondono a un valore di circa 2.000 euro. Cambiamo ancora una volta argomento. Abbiamo parlato molte volte, molto spesso, della cesto via del Monte Camino ed ora la regione, come vi abbiamo anticipato, è pronta a derogare i 500.000 euro per le opere di ristrutturazione. Maglienti locali, tra cui il Comune di Biella, hanno i fondi per partecipare, Marco Fulcheris lo ha chiesto all'assessore Andrea Gibello. Siamo in compagnia dell'assessore al turismo Andrea Gibello. Con lui vogliamo parlare di un argomento che abbiamo già trattato più volte all'interno del nostro telegiornale, anche con un lungo speciale. Il salvataggio della cesto via che dal lago del Mucrone porta al Camino. A quanto sembra la regione ha messo a disposizione i 500.000 euro, a patto che gli enti locali facciano in modo di erogare la cifra che loro devono investire. Il Comune ha una grossa fetta della Fondazione Funivie d'Europa, ma ha la disponibilità, ha la liquidità per l'investimento? Sì, il Comune ha il 47% delle quote della Fondazione, quindi una quota importante. Stiamo ragionando per vedere in quante annualità devono essere erogate questi importi, perché non è necessario erogarla tutto in un anno e quindi c'è la possibilità di suddividerla in due o tre anni, quindi probabilmente questo ci consentirebbe di poter magari far fronte a questa situazione. Indubbiamente la situazione di cassa degli enti locali a cui Biella non fa eccezione ci mettono in difficoltà, perché le società partecipate a cui noi siamo soci come Comune di Biella sono molte, sono tutte società importanti che hanno un ruolo importante sul territorio e purtroppo non possiamo più, non siamo più in grado di poter mantenere la nostra partecipazione su tutte. Questo significa che magari il salvataggio della cestovia può portare anche ad altre lacune, cioè si dovrà fare una scelta magari tra salvare la cestovia e rinunciare a qualche altro investimento? Sì, sta di fatto che noi abbiamo giustamente il dovere di mantenere i servizi primari sulla città, sono le scuole, sono i trasporti, sono tutte le bense scolastiche, sono tutti quei servizi che sono necessari per una vita civile e ordinata. Dopodiché c'è tutto il resto, in tutto il resto c'è anche la cestovia del Montegamino che per carità è importantissima e si cercherà fino all'ultimo di salvare, però è logico che nel momento in cui si debbano fare delle scelte le priorità probabilmente sono altre. Apriamo ora la pagina della sanità, le cure pagliative domiciliari dell'Asla di Biella sono tra i servizi più virtuosi a livello nazionale. Il direttore delle cure pagliative di Biella, Michele Maffeo, afferma il buon funzionamento della rete domiciliare è dato dall'integrazione tra il pubblico e le onlus del territorio. Vediamo. Le cure pagliative domiciliari della rete dell'Asla di Biella sono tra i servizi virtuosi a livello nazionale. Ogni anno l'unità biellese effettua quasi 13.000 giornate di assistenza nelle case dei pazienti. Attualmente le persone seguite nelle abitazioni e presso l'hospice sono circa 400. A dirlo è l'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. I criteri che hanno permesso questo risultato nell'ambito delle indagini in cure pagliative domiciliari sono coerenti con le attuali normative nazionali e regionali. L'As di Biella si è dimostrata in possesso dei requisiti minimi necessari per poter fornire un servizio di cure pagliative domiciliari di buona qualità ed in grado di soddisfare il fabbisogno della popolazione che risiede nel territorio di competenza. I dati evidenziano che nel territorio biellese solo il 3% dei decessi dei pazienti seguiti a domicilio avviene in ospedale. Nel 56% dei casi si verifica infatti nell'abitazione e nel 34% presso l'hospice. Spiega Michele Maffeo, direttore facente funzione della struttura complessa cure pagliative dell'azienda sanitaria locale di Biella. Nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti per cui l'attivazione delle cure domiciliari viene richiesta dall'ospedale, in particolare dall'oncologia. Un dato di contesto deve comunque invitarci ad una riflessione. Complice la crisi economica, molti familiari in difficoltà occupazionale si prendono cura del proprio caro ammalato e questa condizione si traduce anche nel calo di attivazione di badanti. Il buon funzionamento della nostra rete è frutto dell'integrazione tra pubblico e privato, quindi tra la Sbiella e le onus presenti nel territorio, conclude Maffeo. Commozione per i 50 anni di sacerdozio di Don Carlo Gariazzo, parroco del Duomo, festeggiato con grande sentimento dalla sua comunità. Vediamo il servizio di Flavio Chiastellano. Ieri la parrocchia della Cattedrale ha vissuto una giornata del tutto particolare. Ha inteso rendere doveroso omaggio al canonico Carlo Gariazzo, di cui ricorre il fausto evento del cinquantesimo dell'ordinazione sacerdotale. Il ringraziamento è avvenuto nei locali dell'oratorio di Santo Stefano. La palestra non è stata sufficiente ad accogliere i fedeli convenuti. Tantissimi bambini, giovani, famiglie, senza dimenticare parecchi appartenenti alla vivacissima terza età. Prima della Messa concelebrata è stata data lettura del messaggio gurale inviato dal Vescovo Gabriele Mana, evidenziando i meriti moltiplici del sacerdote in vari settori, insegnamento, azione cattolica e altri ancora, soprattutto nell'aiuto prezioso ai meno fortunati. Particolarmente apprezzata è stata la decorazione del rito liturgico, da parte del vivacissimo coro giovanile della parrocchia. Il festeggiato non è riuscito a dissimulare un'intensa emozione, nel corso di una omelia di elevato spessore pastorale, non indulgente a nessuna forma retorica. Al termine, nel cortile c'è stato un rinfresco, prima di trasferirsi nel salone per un'agrape fraterna. In poche parole si è trattato di un momento comunitario memorabile. Scusate da parte mia oggi un po' di emozione e di commozione. Oltre mille persone, parliamo di sport, hanno assiepato il campo di via salvo d'acquisto a Biella per sostenere il Biella Rugby nell'incontro di play-off contro Prato Sesto. La vittoria dei Toscani ha consentito la loro ascesa in Serie A2, ma Biella può gioire lo stesso. Ha disputato una stagione straordinaria. Marco Fulcheris. Non è riuscito il Biella Rugby ad agganciare la Serie A. Nella rivincita di oggi contro il Prato Sesto, il 15 di coach McLean ha registrato la seconda scoffitta, anche se per un solo punto. Più di mille i tifosi assiepati sui bordi del campo, ricordiamo che mancano le tribune al campo di via salvo d'acquisto, mille tifosi a sostenere i gialloverdi per l'occasione in tenuta nera. La società del presidente Vittorio Musso potrà comunque riprovarci la prossima stagione, pur senza una pedina importante come Ann Diamond, alla sua ultima gara in gialloverde. Sesto è in Serie A2. Biella però può giocare lo stesso. Ha disputato una stagione straordinaria e nel 2013-2014 potrà rinnovare l'assalto alla categoria superiore con nuovo entusiasmo. È finita da pochissimi minuti la partita, la seconda finale tra Biella Rugby e Cavalesto. Il risultato non ha sorriso il Biella Rugby, sarà il Cavalesto giocare la prossima stagione in Serie A2. Ma visto quello che è successo in campo, visto l'orgoglio che ci ha messo Biella, visto la festa che ha fatto il pubblico di Biella, vista la stagione, Presidente Musso, è difficile definire proprio una sconfitta? No, assolutamente. Non vorrei sembrare di attaccarmi a qualsiasi cosa pur di giustificare la sconfitta, ma per noi oggi è stata una bellissima giornata. Ripeto, noi ci siamo migliorati rispetto all'anno scorso più di quello che prevedevamo. Siamo arrivati a fare le finale dei play-off. Quindi il prossimo anno sicuramente dobbiamo continuare su questa strada. Resta il fatto che oggi c'è stata una dimostrazione di partecipazione, di affetto al rugby incredibile e credo che questo possa essere forse un grandissimo cambiamento anche per il futuro della nostra società. Intanto il futuro ve lo siete costruito in casa. Il Biella Rugby è arrivato qua con un 15 fatto da 14 giocatori cresciuti a Biella e da un ragazzo gallese. Sì, e direi vorrei che metterci anche io dentro ai ragazzi biellesi perché ormai erano 5 anni che era con noi e quindi è cresciuto rugbyisticamente qui a Biella perché quando è arrivato aveva 21 anni per cui lo consideriamo uno dei nostri. è una soddisfazione quella di avere i ragazzi, le nostre giovanili che hanno portato questa squadra a fare i play-off. Crescita che può continuare? Immagino su un caposaldo, quello che ormai è un caposaldo cioè l'allenatore neozionandese Callum McLean. Sì, assolutamente. Per noi anni fa abbiamo deciso di investire sia su Cal che su Marco Porrino per il settore giovanile per cui questa strada continua. Non è una strada che sia condizionata dai risultati perché qualsiasi risultato arrivi non può essere che positivo. Ora come succede nel rugby ci sarà il terzo tempo e si sorriderà anche dai sconfitti? Assolutamente sì perché non c'è nulla da dire. Il Cavalesto è una squadra che ha dimostrato di essere una squadra di livello, ha dei giocatori molto importanti e non c'è alcun motivo per cui noi possiamo recriminare qualcosa se non forse le tre mete prese per i nostri errori a sesto e questo è il rugby ma questo è il bello del rugby. Grazie mille. Vi ricordo che la telecronaca di Giampiero Cannedo andrà in onda questa sera su Televiella e Reteviella a partire dalle ore 21. Ed ora per chiudere un'altra notizia che riguarda il calcio dopo oleggio anche Atletico Torino viene sconfitto dal Cever Sama e questa seconda vittoria nei play-off di promozione consente alla squadra biellese di approdare alla finale che assegnerà il primo posto nei ripescaggi per l'eccellenza. Con questo è veramente tutto, grazie per averci seguito a tutti voi, una buona giornata e arrivederci.